Tradizione e innovazione, il premio Flaiano apre ai giovani istituendo per il primo anno la sezione narrativa Young. Alla soglia della mezz'età quest'anno siamo infatti alla 46esima edizione, la Fondazione Tiboni e l'Associazione Culturale Flaiano hanno deciso di portare alla ribalta quanto di nuovo emerge nel panorama letterario nazionale. Quest'anno inoltre saranno due le serate di premiazione, la prima dedicata alla letteratura il 6 luglio con lo spoglio in diretta delle schede dei 100 giurati, la seconda serata di gala, il giorno successivo con la consegna dei Pegaso d'oro per tutte le altre categorie che vedrà come sempre tanti personaggi del jet set. Tra le altre cose ci sarà anche una nuova sezione dedicata al giornalismo con un premio speciale alla carriera al cronista americano Steve McCurry. Tornando al cinema ci sarà anche la rassegna del Flaiano Film Festival diretto da Riccardo Milani che lo scorso anno ha registrato 5.000 presenze. Infine, martedì 5 marzo per festeggiare il compleanno di Ennio Flaiano sarà proiettato al Media Museum con ingresso gratuito il capolavoro di Fellini, la Dolce Vita. Quest'anno viene istituito il Flaiano Giovani, ci teniamo tantissimo. Noi all'interno del Media Museum come sapete ci sono tante attività che facciamo per i ragazzi, per i giovani. Vogliamo passare dalle parole, lo avevamo detto negli anni passati, ai fatti e abbiamo istituito la prima edizione del Flaiano Giovani. Ovviamente confluirà nella serata finale del 7 luglio della premiazione del Flaiano, dei premi internazionali Flaiano. Però ci interessa che i ragazzi siano coinvolti in tutte le discipline, in tutte le sezioni del primo Flaiano e che partecipino attivamente alla narrativa, al cinema, al teatro, alla sceneggiatura. Che insomma siano quei talenti scoperti qui in Abruzzo e in Italia e anche fuori dall'Italia che possano essere apprezzati. Noi vorremmo fare la nostra parte e gli dedichiamo questo primo premio Flaiano per i giovani in cui verrà istituito, ci stiamo lavorando con i nostri responsabili, un Flaiano Film Festival per i giovani che sarà completamente gestito da loro. Quest'anno vede tra i giurati anche Donatella Di Pietrantonio, stiamo ricostituendo tutte le giurie, stiamo facendo un lavoro di evoluzione e diciamo in parte di rivoluzione. Perché il Flaiano ormai è alla 46esima edizione, 46 anni sono tantissimi, ma è tantissimo anche il prestigio che il premio sta continuando ad acquisire in Italia e nel mondo. E quindi questo non soltanto ci inorgoglisce ma ci invita e ci esorta a fare sempre meglio e a fare sempre di più.